Io sono Christa Reisillas e siamo alla Robo Capua Pescara, ho 17 anni dall'istituto Ranger Wins, faccio parte del gruppo Sucker, infatti c'è un robot, un calciatore, è la mia passione, è normale ogni anno faccio robotica, ogni mese di marzo stiamo facendo un lavoro e ormai è fatto. Che ruolo hai nella squadra? Il mio ruolo è, faccio la parte P di Harper, infatti è una cosa strana perché sono una ragazza e loro pensano che faccio il software, invece è tipo un'altra cosa. Sto facendo, beh, sappiamo, i motori, queste cose qui, è una cosa fantastica. Grazie, ci vediamo alla prossima Robo Cap allora. Sì, magari.